Quando si dice che i ministri del Movimento 5 Stelle non c'erano sono pettegolezzi giornalistici insomma è la narrazione giornalistica o c'è un qualche imbarazzo da parte vostra? Imbarazzo sicuramente no perché questi sono tutti elementi che noi abbiamo inserito all'interno del contratto di governo. Noi sappiamo che questo contratto è fatto da due forze ben distinte che la pensano in maniera ben distinta rispetto a tutta una serie di questioni. La questione della legittima difesa come sappiamo era un intervento anche se vogliamo in parte necessario perché risponde un po' all'esigenza di chi purtroppo è passato in anni e anni di processi anche ingiusti ed è sicuramente un tema che è stato portato dalla Lega all'interno del contratto di governo e quindi giustamente ieri la Lega rivendicava anche il risultato. Però la legittima difesa ha fatto un percorso parlamentare, il Movimento 5 Stelle ha lavorato con i colleghi e poi alla fine l'ha votato a maggioranza. Ci sono delle cose che sono all'interno del contratto e si lavora assieme per poterle migliorare. Ci sono delle cose che fortunatamente non sono all'interno del contratto come la questione delle armi che è stata citata e quindi queste questioni non arriveranno mai in Parlamento.